Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, una delle cose che più ci piace fare per la sua grande efficacia comunicativa è prendere i dati o gli studi forniti dalla controparte e scavare per arrivare alla verità. Perché si sa, l'assassino lascia sempre qualche indizio sul luogo del crimine? Quest'oggi faremo questo lavoro utilizzando l'ultimissimo studio, addirittura finanziato da Moderna, sull'efficacia dei sieri. E vi assicuro che i risultati sono talmente lampanti che non abbiamo bisogno di aggiungere alcun commento, se non delle considerazioni su quanto è ingiustamente subito dalle popolazioni in questi ultimi anni e che mai più si dovrà ripetere. Per nessun motivo. Questi dati incontestabili, perché finanziati da una società di Big Pharma, attestano una terribile verità che con tutta probabilità è molto peggio di quanto ammesso. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram, dentro la notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 150.000 iscritti, confermandoci così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su YouTube e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby